Per settimana sport siamo con Paolo Scanapieco del Ligorna. Allora Paolo, un 1-1 che a mio parere vi sta un pochettino stretto, poi anche la solita sfortuna dell'autogol. Sì, ci sta stretto perché abbiamo giocato a calcio oggi, abbiamo giocato una grandissima partita, abbiamo avuto le occasioni noi, siamo stati bravi dietro a soffrire e poi su una punizione, una deviazione, hanno fatto gol loro. Però poi siamo stati bravissimi a recuperare la partita e a pareggiarla. Paolo, direi una posizione buonissima di classifica, la salvezza dovrebbe essere ormai acquisita. Obiettivi? I nostri obiettivi? Sì, diciamo che non c'è la matematica, però quasi sicuro siamo salvi. Questa squadra, questa società si merita tanto e speriamo di fare bene. Grazie Paolo.